ragazzi vi aspetto domenica sera alle ore 20 in via musone 115 per l'inaugurazione del nostro terzo punto vendita dopo il grande successo di maddaloni a via napoli 67 e via acqua viva 167 apriremo anche qui a marcianise quindi io vi aspetto ragazzi perché la sera dell'inaugurazione regaleremo anche le flair bar quindi sono le use getta da 600 tv quindi vi aspetto in tanti perché le regaleremo a tutti il mio obiettivo è quello di far smettere di fumare a tutte le persone che fumano da tempo e ovviamente far credere a tutti in questo progetto perché io ci credo tantissimo ma sono tre anni e mezzo che sono in questo settore e ci credo in primis io perché ho smesso di fumare grazie alle sigarette elettronica e il mio compito fondamentale anche qui a marcianise è quello di aiutare più persone possibile a togliere il servizio di fumare togliere quel vizio brutto della sigaretta